In questo tutorial vediamo degli esempi di potenze di numeri razionali. Partiamo da questo primo esercizio. Come prima cosa fisso l'attenzione su questo fattore. Ho una potenza di potenza e allora moltiplico 2 per 3 e posso andare a scrivere 4 terzi elevato alla sesta. Il resto lo ricopio. Devo ora eseguire questa moltiplicazione. Osservo che posso applicare le proprietà delle potenze in quanto i tre fattori hanno tutti e tre lo stesso esponente che è pari a 6 e allora li posso riscrivere in un'unica parentesi tonda. E allora vado a ricopiare il primo fattore 4 terzi per, ricopio il secondo fattore 3 mezzi per, ed ora ricopio il terzo fattore. Questo segno meno lo ricopio di fronte a tutto e poi ricopio un mezzo, tutto quanto elevato alla sesta, ossia l'esponente che avevano in comune. Vado ora a semplificare all'interno di queste tonde. Ho un 3 e un 3 e quindi 3 diviso 3 è 1, 3 diviso 3 è 1. Semplifico poi 2 con 4. 2 diviso 2 ottengo 1, 4 diviso 2 ottengo 2. Ora ho un 2 a numeratore e un 2 a denominatore. 2 diviso 2 ottengo 1, 2 diviso 2 ottengo 1. Adesso moltiplico. Come prima cosa apro la tonda, ricopio il segno meno, a numeratore abbiamo 1 per 1, a denominatore abbiamo 1 per 1 per 1, quindi quello che si ottiene è 1. Poi chiudo la tonda elevato alla sesta. Vado ora a sviluppare questa potenza. Meno 1 elevato a un numero pari ottengo più e per ora non scrivo nulla e 1 alla sesta risulta essere pari ad 1. Passiamo a questo secondo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione all'interno di queste parentesi quadre. Ho una moltiplicazione. Osservo che questi due fattori scritti così come sono non mi danno possibilità di applicare le proprietà delle potenze in quanto sia gli esponenti sia le basi sono diverse. Per poter applicare le proprietà delle potenze devo fissare l'attenzione su questo segno meno e lo scopo è cercare di portare questo segno meno al di fuori della parentesi tonda. E allora apro la quadra, ricopio 4 quinti elevato alla seconda, poi per, e adesso distribuisco la potenza 3. Meno elevato a un numero dispari ottengo meno. Il segno meno che ottengo lo scrivo di fronte a tutto e allora lo metto qui. Poi ricopio 4 quinti elevato alla terza e quindi scrivo 4 quinti alla terza. Chiudo la quadra alla seconda. Il resto lo ricopio. Diviso meno 4 quinti elevato all'ottava. Ora posso applicare le proprietà delle potenze in quanto ho la stessa base e allora sommo gli esponenti 2 più 3. Apro la quadra, ricopio il segno meno, scrivo 4 quinti elevato alla quinta, tutto quanto alla seconda, poi diviso meno 4 quinti elevato all'ottava. Vado ora a distribuire questa potenza 2 all'interno delle quadre. Meno elevato a un numero pari ottengo più, quindi non scrivo nulla, e poi devo calcolare 4 quinti alla quinta alla seconda. Ho una potenza di potenza, quindi moltiplico gli esponenti 5 per 2 ed ottengo 4 quinti elevato alla decima. Diviso. Qui mi conviene distribuire la potenza 8. Meno elevato a un numero pari ottengo più, quindi non scrivo nulla, e poi ricopio 4 quinti elevato all'ottava. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze in quanto ho la stessa base che è pari a 4 quinti. Visto che vi è una divisione, calcolo la differenza tra gli esponenti. 10 meno 8 è pari a 2, e allora scrivo 4 quinti elevato alla seconda. Sviluppo infine la potenza 2 ottenendo 16 venticinquesimi. Passiamo a questo terzo esempio. Come prima cosa fisso l'attenzione all'interno di queste parentesi quadre? Ho una potenza di potenza, e allora devo moltiplicare 4 per 3. Apro la graffa, 4 per 3 è pari a 12, e allora ottengo un mezzo elevato alla dodicesima, poi per due terzi elevato alla dodicesima, e chiudo la graffa. Abbiamo infine diviso meno un terzo elevato alla decima. Per eseguire questa moltiplicazione posso applicare le proprietà delle potenze. Osservo che questo fattore e questo fattore hanno lo stesso esponente, che è pari a 12, e allora li posso ricopiare all'interno di un'unica parentesi tonda. Le graffe non le ricopio perché non mi servono più. Apro la tonda, un mezzo per due terzi elevato alla dodicesima, ossia all'esponente che avevano in comune. Posso semplificare ora 2 con 2. 2 diviso 2 ottengo 1, 2 diviso 2 ottengo 1. Poi diviso, qui mi conviene distribuire la potenza 10 in quanto vi è un segno meno, mentre in questo fattore non abbiamo un segno negativo, meno elevato a un numero pari ottengo più, quindi non scrivo nulla, diviso 1 terzo elevato alla decima. Ho così 1 terzo alla dodicesima diviso 1 terzo elevato alla decima. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze in quanto ho la stessa base che è pari a un terzo, e allora calcolo la differenza tra gli esponenti, 12 meno 10, e quindi scrivo 1 terzo elevato alla seconda. Sviluppo la potenza 2 ed ottengo un nono. Passiamo a questo quarto esempio. Come prima cosa devo sviluppare questa potenza di potenza, e allora apro la graffa, ricopio meno un mezzo elevato alla terza per 3 per 2 è pari a 6, e allora scrivo meno un mezzo elevato alla sesta, e chiudo la graffa. Poi diviso meno un mezzo elevato alla settima. Eseguo ora questa moltiplicazione. Osservo che ho la stessa base che è pari a meno un mezzo, e allora posso sommare gli esponenti. 3 più 6, e allora scrivo meno un mezzo elevato alla nona diviso meno un mezzo alla settima. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze. Ho la stessa base che è pari a meno un mezzo, e allora 9 meno 7 è pari a 2, e scrivo meno un mezzo elevato alla seconda. Meno elevato a un numero pari ottengo più, quindi per ora non scrivo nulla, e un mezzo alla seconda è pari a un quarto. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa ricopio la graffa, apro la quadra, e visto che ho 16ottantunesimi, mi conviene riscrivere questa frazione come potenza. In particolare 16 è pari a 2 alla quarta, 81 è pari a 3 alla quarta, e allora 16ottantunesimi si può scrivere come due terzi elevato alla quarta. Se andassi a risviluppare questa potenza, otterrei proprio questo numero. Poi diviso due terzi elevato alla seconda, chiudo elevato alla terza. Il resto lo ricopio. Ora, all'interno di queste parentesi quadre, per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze. Ho la stessa base che è pari a due terzi, e allora calcolo la differenza di 4 con 2. 4 meno 2 ottengo 2. E allora apro la graffa, ottengo due terzi elevato alla seconda, tutto quanto elevato alla terza. Il resto lo ricopio. Sviluppo ora questa potenza di potenza. 2 per 3 ottengo 6. Quindi apro la graffa e scrivo due terzi alla sesta, poi per 5 mezzi elevato alla sesta, tutto quanto elevato alla seconda, e poi abbiamo diviso 5 terzi alla decima. Osservo ora che per eseguire questa moltiplicazione posso applicare le proprietà delle potenze. I due fattori hanno lo stesso esponente pari a 6, e allora posso riscrivere questi due fattori in un'unica parentesi tonda. E allora apro la tonda, scrivo due terzi per 5 mezzi elevato alla sesta, e poi tutto quanto elevato alla seconda. Osservo che qui posso semplificare 2 con 2. 2 diviso 2 ottengo 1, 2 diviso 2 ottengo 1. Poi abbiamo diviso 5 terzi elevato alla decima. All'interno di questa parentesi tonda rimane 5 terzi, e poi ho potenza di potenza. 6 per 2 ottengo 12, e quindi scrivo 5 terzi elevato alla dodicesima, diviso 5 terzi elevato alla decima. Per eseguire questa divisione posso applicare le proprietà delle potenze, in quanto ho la stessa base che è pari a 5 terzi. 12 meno 10 è pari a 2, e allora ottengo 5 terzi elevato alla seconda. Svilupo ora la potenza 2, ed ottengo 25 noni. E con questo termino il tutorial su potenze di numeri razionali.